Time for action Abbiamo qualcuno qua sopra Oh oh è un cecchino Sempre lui è sempre lui Colpo la testa bello Non tenere sempre l'occhietto dentro il mirino Perché poi non vedi bene quello che c'è in giro Eccoti qua Che culo aveva finito i proiettili L'avete visto ragazzi Attenzione No è uno dei miei Cazzo sto facendo Aia 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 mi ha fregato di coltello Volevo provare di pistola Perché voglio aumentare anche il livello della pistola Perché se no quando mi capita di usarla È poco potente Quindi facciamoci qualche uccisione No dai Alla prossima Facciamo così Roba nostra? Sì Ehi bello A lupo mannaro Non è ancora mezzanotte Torna nel tuo loculo Alla prossima Si vede una cippa Via di qua Via di qua Via di qua E subito pronti per sparare al lupo a chiotto Granata Granata Uccisione esplosiva Bello Ah Chi cacchio è che è arrivato? Siamo 23 23 A 4 minuti al termine ragazzi Eia Sto cacchio di cecchino Oh T'hanno segato Finalmente Ci hai messo troppo tempo A capire dove eri Bello Tiziano pro 82 Eccoti qua Bello Il cecchino Eccolo là Il cecchino Vai con la granata Peccato Non l'ho preso E' morto prima Questo Il cecchino invece L'abbiamo messo a posto Al suo posto E' mio 32 34 La squadra avversaria Sta cominciando a rimontare Ma noi adesso Ci dobbiamo sbrigare Cacchio Ci dobbiamo sbrigare Assolutamente Che macello Ragazzi Sono fuori dal tunnel Oh Guardate qua Chi c'è Due piccioncini Oh Come sono vicini Vicini Vi siete appena sposati Lo so che sei un cecchino Ma io ci provo Ma io ci provo Bello Io ci provo Anche con te Bello Lupacchiotto Che non sei altro Dove sei finito 48 41 Un minuto Al termine Della partitozza Dai 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 Eccoti qua Eccoti qua Sono tornato Baby Eh lo so Che mi hai beccato Pure tu Però insomma dai Va bene E' andata bene E' andata bene E' andata bene Ok Ci facciamo un'altra partitozza Che ne dite ragazzi Visto che siamo in allenamento Continuiamo E siamo in Pole position 19 uccisioni Con 8 morti Altro pacchetto battaglia Bello disponibile Che ci andremo a spacchettare Sicuramente le prossime volte E Che dire Mi piacerebbe cambiare mappa Cioè La metto così eh Cioè proprio mi piacerebbe Cambiare mappa Vediamo se hanno voglia Mi piacerebbe andare Oh In vantaggio Vantaggio Sì perché no Da tanto che non la faccio Ok Direi che ci siamo Direi che Due voti Hanno Si sono aggiudicati Per il vantaggio Sempre modalità Squadre No Tutti contro tutti Ai 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 E' mosso Volatili Per diabetici Cioè So cazze amari Vamo Ok Accetto la sfida Vediamo cosa riusciamo a fare Attenzione Iniziamo Tokyo City Night Che famo Andiamo Le devo distruggere tutte Alla Street Fighter Vi ricordate ragazzi Quando dovevamo Debolire L'automobile Per fare punti Ok Via si parte ragazzi Impegniamoci Controlliamo Soprattutto Sempre bene Nella mappa Prima uccisione Bella 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 Ah il geniere Il geniere Porca puttana Scusate L'avevo visto Con la Con la mira automatica Muori Cecchino Dove scappi Siamo a tre uccisioni Ragazzi Ci hai provato Bello Ma non ci sei riuscito Oh Oh No Ok Siamo a quattro uccisioni Vai che fox Vai che fox È in pole position In questo momento Ma noi Dobbiamo sbrigarci Dobbiamo sbrigarci Siamo passati in vantaggio Vediamo per quanto Vediamo per quanto riusciamo A rimanerci No ma dai Ma c'è Ma vai Dai Amadeus Sei noioso Bello Lascia perdere Queste postazioni Tattiche Non ci credo Mi stava seguendo L'ho visto sulla mappa L'ho visto Non è che non l'avevo visto È il sacchetto di carta A moto lo faccio io Un bel panino Lo so Lo so Mi stanno sparando dall'alto Devo togliere da qui No Siamo a 11 uccisioni Ragazzi Siamo a 11 uccisioni 5 morti Ok va bene Va bene Va bene Va bene Ehi Vuoi morire o no Vuoi morire o no Cacchio Ma perché Perché non moriva Ti cacchio Di proiettiti Devo tirare a te Eh lo sapevo Lo sapevo Mi devo allenare col coltello Ragazzi Perché qua È un bel trip In queste occasioni Mi faccio sempre fregare Uccisione esplosiva Attenzione Attenzione Tra i due litiganti Il terzo gode Siamo a 14 Ragazzi Bene Mi è andata bene Meno male che è arrivato Quello là Ah Eccoci Anthony Stai attento Sai No 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 Fatemi ammazzare questo Che è importante È importante Ammazzarlo Mannaccia mia Col geniere Arma di livello 1 Mira automatica Eh La vorrei avere io però Eh sinceramente Mi è sempre piaciuta Quell'arma Un po' da nabbi Però va bene Ci sta ogni tanto Vieni qua Granate Volano ora granate Andiamo là sopra Andiamo a vedere Che aria tira Oh Ciao bello È stato un piacere Rincontrarti Sai Dai Dai Ne voglio ammazzare Un altro E ce la facciamo Chiudiamo in bellezza Siamo sul podio Siamo sul podio Grande Ok 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 Direi che andiamo bene Ragazzi Stiamo migliorando Al soppressore Sta quasi per essere sbloccato Non vedo l'ora Attività completata Attività completata 20 più 20 Uguale 40 Ok va bene Concludiamo qui Questa partitozza Ragazzi È stato un piacere Mi raccomando Spolliciate Se vi è piaciuto il video E noi ci vediamo Al prossimo appuntamento Ciao a tutti ragazzi Complimenti Hai terminato la visione Da questo momento Hai 10 secondi Per fare la tua scelta